Il San Marino contro il Borgo Abugiano centra la settima vittoria nelle ultime nove gare e lo fa senza il capo cannoniere del campionato Gianluca Lappadula, il cui infortuna alla caviglia è stato tenuto nascosto dalla società bianco-azzurra fino all'inizio della partita. I titani sblocchano il risultato dopo appena tre giri di lancette. Una triangolazione tra Sorbere e Poletti porta la palla a Villanova, che con un destro insacca in angolo, 1-0. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, è la squadra di Colonnello a farsi pericolosa con due conclusioni da lontano. La prima di Corsi finisce a lato. Così come finisce a lato il calcio di punizione calciato da Maretti al tredicesimo. Al minuto 24 il San Marino raddoppia. Del sole serve D'Antoni, che stoppa e di destro supera grande in uscita, 2-0. Al trentacinquesimo Rocchi accorcia le distanze per gli ospiti, con un destro dai 25 metri. Si va a riposo sul 2-1. Il lettrice del San Marino arriva al terzo minuto della ripresa, con Poletti che serve un pallone che Villanova di sinistro spedisce alle spalle dell'estremo difensore ospite, 3-1. Al quarantesimo arriverà Doppio ospite, con Rocchi che si incunia in aria e trafigge Vivan, segnando il 3-2. Ormai però è troppo tardi e i titani festeggiano l'ultima gara del girone di andata con una vittoria.